politica a casella mare di stabbia nicola cuomo vince le primarie del candidato sindaco del partito democratico va a fuoco un prefabbricato mattinata di paura ad angri piano traffico annola via fonseca tornerà doppio senso caos trasporti trascioperi e proteste per il rincaro biglietti una mattinata da dimenticare a napoli ed è stato presentato nel capoluogo partenopeo il libro come nuvole nere e per il calcio in serie d si riaccende la corsa al vertice nel girone g questi titoli adesso la pubblicità benvenuti nella nostra la nostra informazione sarà nicola cuomo il candidato del partito democratico a castellamare di stabbia per la corsa alla poltrona di primo cittadino nelle prossime elezioni amministrative con 5726 preferenze ha superato nicola corrado alle primarie ora bisognerà trovare un accordo con i moderati per arrivare forti alle elezioni il servizio di agostino ingenito nicola cuomo è il candidato sindaco del centro sinistra a castellammare di stabbia è stato netto il distacco col suo competitor nicola corrado alle elezioni primarie che si sono svolte ieri sono stati in 5.756 gli stabbiesi che si sono recati alle urne per scegliere il candidato sindaco sancendo la vittoria di cuomo in cinque sezioni su sette 3.285 i voti per cuomo se invece è fermato a 2.399 il consenso per corrado leader di officina democratica punta ora al raccordo con i moderati cuomo che intende vincere le elezioni comunali mentre potrebbe fare un passo indietro il giornalista matteo cosenza nelle parole dell'avvocato nicola cuomo gli obiettivi per la campagna elettorale ormai avviata in vista delle elezioni di fine maggio ora parte il lavoro per creare un centro sinistra aperto alle forze di centro spero di poter coinvolgere un po' tutti e vincere al primo turno ora naturalmente la partita sembra essere quella tra un blocco abbastanza coeso di centro sinistra con quello di centro destra che ha voglia di rivalsa sì ma noi innanzitutto io mi confronterò con i cittadini questo l'ho chiesto e continuerò da questo punto di vista ci sono delle professionalità che importantissime e quindi voglio coinvolgere un po' tutti quanti quindi al di là delle formule politiche cercherò di coinvolgere tutti coloro i quali mi hanno dato una mano in questa fase partendo dai 6.000 cittadini e sono convinto che insieme anche con coloro i quali voteranno contro riusciremo a dare un futuro alla città 9 ordinanze di custodia cautelare sono state seguite all'alba di oggi dai carabinieri della stazione di Terzigno un provvedimento firmato dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Nola su richiesta della procura i 9 indagati sono ritenuti responsabili di spaccio di sostanze stupefacenti si tratta in particolare di 4 arresti e 5 obblighi di dimora al di fuori del territorio comunale di Terzigno le indagini sono partite nel mese di ottobre del 2012 dopo una serie di segnalazioni arrivate dai cittadini ai carabinieri i quali iniziarono ad indagare sull'affare dei pusher di colore e a Castellammare di Stabia è stato ritrovato il cigno scomparso dal laghetto delle Terme il volatile è stato ritrovato dai vigili urbani in un fossato dove era probabilmente caduto due giorni fa senza avere più la possibilità di risalire provvidenziale l'intervento dei vigili urbani e dell'associazione pro natura che lo hanno riportato nel laghetto e ci spostiamo ad Angri dove brucia un prefabbricato a fondo caiazzo in fumo, legni e rifiuti che hanno generato un rogo tossico creando apprezzione per i numerosi residenti della zona l'aria diventata discarica rappresenta una vera e propria bomba ecologica mattinata di tensione e di paura ad Angri per l'incendio di un prefabbricato a fondo caiazzo fumo nero e denso, esalazioni pericolose che hanno inondato le abitazioni vicine all'aria ormai da tempo divenuta discarica a cielo aperto con la presenza dell'amianto killer presente in grande quantità nei tetti delle baracche post terremoto lastre di Eternit che impongono bonifiche serie che in attesa rappresentano un rischio reale per la popolazione residente le fiamme si sono sprigionate in maniera violenta intorno alle 11 di questa mattina ed hanno coinvolto una baracca semidiroccata al centro di un'area discarica un incendio che ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Nocera Inferiore mentre sul posto erano giunti vigili urbani e protezione civile e carabinieri per isolare l'area e metterla in sicurezza cercando di capire se vi fossero persone nei prefabbricati adiacenti fuoco che ha lambito anche altre baracche l'intervento dei caschi rossi nocerini ha circoscritto il rogo spiegnendolo in pochi minuti alcuni testimoni hanno detto di aver visto due persone con il volto coperto a piccare il fuoco ai rifiuti presenti con fiamme subito alte un rogo che è esploso violentemente seguito da piccoli botti sordi un incendio che si spera resti un episodio isolato altrimenti l'area a rischio può diventare zona di roghi tossici per la presenza di multimateriale pericoloso per la salute umana Dramma lavoro a torre annunziata chiedono dignità gli ex lavoratori dell'area stabiese che questa mattina hanno protestato di fronte alla sede della giunta regionale nel centro direzionale di Napoli chiedono che sia garantito loro un autentico inserimento occupazionale sono due mesi che non percepiscono neanche più le indennità di mobilità poco meno di 500 euro mensili che non riescono a garantire loro di portare avanti le proprie famiglie mentre sembra aprissi uno spiraglio per una possibilità e una continuità degli ammortizzatori sociali è fallito invece il piano di reinserimento ancora una variante al piano traffico ancora modifiche alla viabilità cittadina ritorna il doppio senso a via Fonseca per attuare le richieste nate in commissione annona durante gli incontri con commercianti e associazioni Gianni Amodeo nuovo capitolo per il piano urbano del traffico a Nola è correlato con il ripristino del doppio senso di marcia per un tratto della centrale arteria di via Fonseca ripristino che a palazzo di città sarà al vaglio della commissione ordinaria per l'annone e la viabilità preseduta da Franco Nappi un esame di valutazione a cui parteciperanno il sindaco Geremia Biancardi il dirigente della polizia locale, il colonnello Carmine Lanzaro nonché i rappresentanti delle associazioni segnatamente delle categorie del terziario il ripristino del doppio senso interessa il segmento stradale di via Fonseca delimitato dalla sede del comando della polizia locale e dall'intersezione con via Seminario, via La Rocca e via Merliano una scelta che è scaturita da una serie di incontri tra gli amministratori e le associazioni sviluppatisi negli ultimi mesi tra polemiche riserve incrociate mirate a contestare gli obiettivi del piano urbano del traffico redatto negli anni 90 dal professor Marino De Luca dell'Università di Napoli con l'amministrazione Ambrosio ma mai attuato e rilanciato nella scorsa estate dall'amministrazione Biancardi con integrazioni e aggiornamenti senza intaccarne però la matrice originaria dei due cerchi concentrisi su cui canalizzare i flussi veicolari matrice funzionale alla vivibilità del centro storico e alla migliore disciplina possibile del traffico automobilistico con il ripristino del doppio senso da vagliare in commissione ma che si può dare per scontato considerato l'iter seguito finora sono date delle risposte parziali alle criticità lamentate a vari livelli risposte che però contraddicono di fatto l'orientamento del piano tenendo presente che sono previste anche altre modifiche espresse e richieste dalle associazioni di fatto l'attuazione del piano finora sperimentale si è commisurata con limiti specifici emersi a tutto tondo in questi mesi uno è rappresentato dalla sossa selvaggia con tendenza anarchica abbastanza diffusa l'altro è costituito dalla mancanza di una vera congrua segnaletica orizzontale terzo limite l'assenza di un capillare ben strutturato controllo del territorio cittadino e il paradosso combinato della sossa selvaggia e del mancato controllo del territorio si manifesta nelle aree di parcheggio pubblico per nulla o scarsamente utilizzate morire a 15 anni per mano di un ragazzo di due anni più grande è successo ad Aversa adolescenza violenta capace di accoltellare al cuore durante una lite è morto così in 15 anni nel pronto soccorso dell'ospedale della città dopo essere stato accoltellato vicino ad un ufficio postale da un giovane di 17 anni poi arrestato dai carabinieri il ragazzo è stato colpito dal cuore durante una lite colpiti e feriti anche altri quattro amici tutti coetanei della vittima mattinata di protesta che ha condizionato il trasporto pubblico il rincaro biglietti ha scatenato le proteste degli utenti mentre uno sciopero di alcuni rappresentanti di categoria ha bloccato il 14% degli autobus dell'ATM Trasporti pubblici in sciopero, caos a Napoli e gli utenti protestano per rincaro dei biglietti unico autentica giornata da dimenticare per il trasporto pubblico regionale e dell'area napoletana il 14,5% degli autobus dell'ANM, l'azienda napoletana Mobilità è rientrato nei depositi per effetto dello sciopero di categoria proclamato dalla USB letteralmente imprigionati alcuni pendolari nella stazione della Cumana a Montesanto i dipendenti in sciopero avevano chiuso le porte impedendo la fuoriuscita degli utenti lavoratori e studenti hanno invece occupato per alcune ore gli uffici amministrativi del Consorzio dei Trasporti Regionali Unico Campania in piazza Matteotti a Napoli protestano per i rincari dei biglietti e degli abbonamenti e per lo Stato in cui versa il servizio pubblico locale la situazione è alquanto complessa e dopo l'aumento delle tariffe in vigore dal 1 aprile sono continuate le proteste di utenti e cittadini che chiedono un servizio più efficiente difficile la condizione dei mezzi di trasporto solo nel deposito della ANM su 200 autobus attivi sono in funzione al giorno poco meno di 50 A Giuliano in Campania i carabinieri della locale stazione hanno arrestato Antonio Papa di 24 anni raggiunto da un ordine di carcerazione emesso il 3 aprile dal Tribunale di Santa Maria Capovettere perché deve scontare una pena di 3 anni ed 8 mesi di rescusione per rapina mentre a Gragnano i militari dell'arma hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente Carmine Esposito di 30 anni l'uomo è stato notato a piedi nel centro cittadino in atteggiamento sospetto dai militari dell'arma che lo hanno fermato per controlli e sottoposto a perquisizione è stato trovato in possesso di 41,3 grammi di marijuana divisa in 16 confezioni e di 215 euro in denaro contante ritenuto provento illecito dell'attività è stato presentato presso la sala giunta di Palazzo Santa Lucia il libro Come nuvole nere storie di 24 vittime innocenti della criminalità con le testimonianze dei familiari un libro che sarà disponibile nelle librerie dal 12 di aprile Come nuvole nere è il titolo metafora del libro che racconta le tristi e tragiche vicende di 24 vittime innocenti della criminalità un libro di testimonianza amare e civile scritto da Raffaele Sardo nel quale scorrono le pagine con cui i familiari ricordano i propri congiunti uccisi in modo cinico e beffardo da mani e menti violente e gli assassini quasi sempre restano o sono restati a lungo impuniti ed avvolti nel cubo manto dell'omertà e dell'indifferenza Il libro di Raffaele Sardo che scuote le coscienze dei cittadini da bene costituisce il sequel di Aldilà della Notte e la sua pubblicazione si deve all'impegno meritorio della fondazione Polis e sarà disponibile nelle librerie venerdì 12 aprile Una testimonianza e più di una testimonianza, una memoria, un ricordo svolto da un importante giornalista che ha voluto scrivere queste storie che sono le storie che sono le vittime innocenti della violenza in genere per quanto ci riguarda ai medi un pezzo della criminalità organizzata, della camorra e quindi dell'ingiustizia e del dolore delle famiglie ma soprattutto di quello che non deve rimanere una memoria ma una testimonianza ogni giorno per le istituzioni, un'azione continua lo abbiamo fatto e lo dobbiamo continuare a fare con forza, con decisione questi sono dei momenti di identità per una istituzione locale quindi non valgono le crisi economiche, i tagli che pure incidono sulle politiche anche della sicurezza la politica anche di sostegno e di vicinanza alle famiglie delle vittime innocenti abbiamo una straordinaria fondazione, la Polis è un'esperienza unica in Italia dobbiamo farla lavorare così come sta lavorando in grande forza, grande libertà, con i mezzi di cui ha bisogno perché ha progetti molto importanti e le istituzioni devono fare questo lavoro cioè garantire tutto questo e farlo con il lavoro quotidiano di ogni giorno e con l'azione e con le decisioni che vanno prese senza utilizzare le frasi di circostanza o la retorica che spesso si utilizza che poi rimane una testimonianza di una giornata di descrizione ma deve essere un lavoro quotidiano credo che l'educazione, la cultura siano fondamentali le scuole, bisogna anche laddove la famiglia non riesca a essere un modello la scuola purtroppo si deve assumere l'onere di rieducare i giovani che appartengono a famiglie che sono nel crimine, nella delinquenza e oggi è necessario avere consapevolezza del contributo che ciascuno di noi deve dare nel contrasto alla Camorra ci accorgiamo che i danni non sono sempre e solo della Camorra che oggi sta subendo colpi inferti con grossa forza come dicevo alla magistratura e alle forze dell'ordine ma anche quella criminalità non organizzata che affolla purtroppo le nostre strade un presidio costante proprio nelle città laddove appunto la delinquenza si esprime con grande violenza andrebbe posto per impedire che fatti come quelli di stanotte continuino a verificarsi la giornata di oggi dimostra proprio questo tutte le istituzioni devono fare fronte comune contro la criminalità organizzata di tipo camorristico, di tipo terroristico oggi si è parlato dell'una e dell'altra dal punto di vista delle vittime e dei parenti delle vittime è stato un momento molto importante e adesso passiamo a calcio giornata interessante nel Girole G di Serie D la casertana impone i pari alla Torres sfiorando anche il successo bene la Sarnese che resta in scia campionato vivo a poche giornate dal termine con la Turris che domenica prossima ha la ghiotta possibilità di diventare capolista il finale di campionato che non ti aspetti si accende la lotta per la vittoria finale nel Girone G dove la Turris ha nel mirino la capolista Torres ora a due punti e prossima avversaria a Liguori domenica prossima dunque concreta possibilità per i corallini di agguantare la vetta del Girone dopo tanto inseguimento in una stagione fatta di alti e bassi la Turris ottiene il prezioso successo al 92esimo con Arcamone che favorito da un rimallo fulmina il portiere Sardo una gara per i torresi che si era messa male fin dall'inizio con l'invantaggio del Budoni siglato da Borrozzo all'ottavo nella ripresa alla rimonta della squadra campana iniziata da Mannone al dodicesimo e completata come detto da Arcamone la vittoria della Turris è concomitante al pari della Casertana Sassari rosso blu in partita che hanno sfiorato più volte in vantaggio con il portiere della Torres Secchi ad evitare di subire la marcatura una super sfida terminata a reti bianche resta in scia la Sarnese che impone la sua forza con la Selarjus 4 a 2 risultato finale con i Sardi in vantaggio con Sanna al 23esimo nella ripresa di Granata passano con Enrico al dodicesimo con Tarallo su calcio di rigore al diciottesimo con Izzo al ventottesimo poi subiscono il ritorno dei Sardi con Farce al trentunesimo ed infine chiudono i conti ancora con Enrico al trentottesimo e con il calcio è tutto grazie a tutti voi per averci seguito arrivederci raffinati dettagli che arredano il tuo mondo Tufano Arredamenti qualità ricercatezza stile design per arredare i tuoi spazi dal classico al moderno delle migliori case italiane da Tufano Arredamenti puoi visitare l'esclusivo showroom dedicato alle cucine Berloni da Tufano qualità dei servizi personale qualificato consulenza personalizzata trasporto e montaggio a regola d'arte assistenza post vendita fanno la differenza Tufano Arredamenti piazzale ferrovia Saviano www.tufanoarredamenti.it per ogni arredamento completo un televisore LCD 32 pollici in omaggio